Musica Il San Gensi Spark è la casa dei Magpies, così come vengono soprannominati i giocatori del Newcastle. L'impianto è stato ristrutturato di recente, attualmente ha una capacità... Può metterla da lì. Diamé! Ha battuto il portiere con una conclusione davvero molto angolata. La prima cosa dell'incontro 1-0. Diamé! Passaggio perfetto. Opportunità! Si riparte col calcio d'angolo. Chi ha a me? Un colpo alla biliardo, il pallone in rete. La mediazione del palo in questo caso. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Palla la gamba. Maragna metri, ha metri a disposizione. Alex Hunter! E il pallone entra! Ed è gol! Splendida la giocata smarcare. Decideranno di abbassare il ritmo per risparmiare le forze, se continueranno a spingere. Hanno aumentato il vantaggio grazie al gol del 3-0. Senta qui la minaccia. C'è spazio per ripartire. Attenzione pericolo! Grande parata, grande riflesso. Super qui il portiere. Pronto a battere il calcio d'angolo. Il portiere di pugno a lontana. Palla larga. Ottimo intervento difensivo. Con il tacco, numero. Attenzione pericolo! Grande parata questa. Hunter. Cerca la porta. L'ha messa dentro Hunter. Ma in cassaforte. Palla vagate. Si avvicina all'area. Recupera bene il pallone. Arriva il pizzico finale dell'arbitro in questo primo tempo. 4-0. Risultato nettissimo. Palla schizza via dopo il contrasto. Squadra offide che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto. C'è bisogno di forze fresche. Gran tiro. Attenzione! Grande! E con questa sono tre. Attrick per Hunter. Una prestazione da... Diame. Hunter. Punta l'area. Una vera e propria bordata. Il portiere non poteva farci nulla. Forse è rimasto un po' sorpreso, visto la distanza. E' una rete questa che vale da sola il prezzo del biglietto. Un missile che ha soffredo tutti, compreso il portiere. Partita che ha visto dominare una sola squadra. Difficile possa cambiare nel finale. E il pallone esce di pochissimo. Buono il tackle. Diame. Occhio alla ripartenza. Prova la botta. E c'è il no di Hunter. Il no di Hunter. Ma cosa bella? Com'è un po' carico? Il no di Hunter. Prova la botta. Ma cosa bella? Con'è il no di Hunter. Con'è il no di Hunter. Accusate la testa. Di si. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 3 minuti da recuperare. Hunter. Baragna metri. Occhio al contropiede. Alex Hunter. E c'è il gol. Palla in rete. Una giornata che non dimenticherà. È arrivata la tripletta. Punta l'area. E c'è il tiro. Ha segnato Hunter. Hunter. La piazza. Hunter punta la porta. Grande chiusura difensiva. Attenzione pericolo. Occasione d'oro. Ha segnato Hunter. l'ennesimo gol di una partita praticamente perfetta dal punto di vista offensivo. Fantastica. Perfetta. Niente da dire. Allora. Non è vero. Ermato. Applausi. Tornato. Puoi usare. We liberali. Buon lavoro. Grazie a tutti